E nella introduzione tu dicevi che ci sono due tipi di famiglie, lo vuoi raccontare tu quali sono? Sì, questo è un libro che non ho scritto io, un libro che facciamo... No, però c'è una tua prefazione. Sì, è una collana che facciamo alla scuola Holden che si titola Save the Parents. Naturalmente, sentendo la storia che mi ha preceduto, adesso sto alberto, la butterei via dalla finestra, ma è vero che... Eh no, io lo trovo utilissimo invece questo libro. Sì, è vero che poi, grazie a Dio, nella stragrande maggioranza dei casi, l'esperienza di essere padri e madri è un'esperienza abbastanza ordinaria. straordinaria, ma fatta di cose molto ordinarie. E può essere anche un'esperienza di grande smarrimento, di grande fatica, di dolore. Anche quella, voglio dire, anche il semplice avere dei figli può avere dei momenti durissimi. Però guarda che anche Franco Antonello prima diceva cose da fare, bisogna fare delle cose. E qui tu dici, c'è una cosa da fare la sera e ci sono due modi per affrontare quella cosa. Sì, abbiamo deciso da scuola anche perché molti di noi sono genitori, sono diventati genitori in questi quindici anni della scuola, insomma, per cui abbiamo, diciamo, sempre le a chiacchierare di queste cose. E allora ci è venuto in mente di fare, pensavamo di fare delle cose per i bambini, per i ragazzini, ne abbiamo fatte in passato. E poi alla fine abbiamo detto, ma no, facciamo qualcosa per i genitori, facciamo qualcosa per noi. Save the parents. Sì, abbiamo fatto questa collana che si diceva Save the parents, perché sono loro che vanno salvati, perché poi i bambini se la cavano, invece il genitore è più complesso, più delicato. E allora abbiamo, è proprio tutta una collana, di volta in volta abbiamo preso le cose che nella nostra vita rappresentavano questi piccoli ma enormi problemi. Lì, quel libro lì, che si intitola 100 storie per quando è troppo tardi, è applicato a questo problema, il fatto che non si riesca a mandarli a letto, che produce nevrosi in loro, in noi, no? E allora un sistema, io ho scritto la prefazione, poi tra tutti noi, amici, insegnanti, allievi, abbiamo scritto queste 100 storie, che sono storie da 10 righe, ma lì il problema è che il ragazzino, il bambino non vuole andare a letto, questo è il problema. No, però la cosa che mi divertiva molto, oltre alle storie, che sono belle, sono molto carine, e anche utili, secondo me, ma nella prefazione tu dici, ci sono due tipi di famiglia, in un certo tipo di famiglia ci sono i genitori che hanno le idee molto chiare, e mandano i bambini a letto presto. Prestissimo, otto. Sì. Poi tu dici, beh, il fatto che poi... Si capisce subito che io non sono di quelli lì. No, poi dici, beh, ci sono poi quelli che invadono la Polonia, tra questi bambini mandati a letto alle 8, però, vabbè, quello è un dettaglio. Infatti la mia assistente, che li manda a letto alle 8, se l'è presa molto, ma è una battuta, però è vero che ci sono questi genitori che hanno questi dia di educazione molto, no? I bambini alle 8, perché così poi dopo i genitori hanno un momento per sé, ok. E poi ci sono gli altri. Sì, tipo la mia, in cui il dibattito inizia verso le 9 e mezza, e incredibilmente può durare anche un'ora e mezza, cioè, che poi la sequenza, come spiego lì, è semplice, no? Cioè, lavare mani, faccia, denti, a casa mia è così, mettere il pigiama e andare a dormire, cioè non è possibile, cioè, vuoi metterci molto, 15 minuti, ma 20 minuti, ma a volte dopo un'ora e mezza c'è ancora il pigiama da mettere, allora lì succede qualcosa che va capito, perché lì evidentemente il bambino intanto è sveglio e ha capito che il giorno, la luce, la vita e il bello, il dormire, insomma, come il diciottenne che esce, che vuole andare a dormire? Questi sono già piccolini ma hanno voglia di vivere e quindi questa roba di andare a dormire non gli piace tanto. E poi naturalmente è una lotta fra te e lui, chi è più forte praticamente, lui non ci sta, poi questi bambini sono svegli ormai e quindi non ci sta. Allora, la storia breve ha questa funzione che funziona, adesso tu non puoi provare, far provare, consigliala, perché loro vogliono la storia, l'ultimo, quando tutto è finito, papà ha la storia. La storia mica puoi dire di no, cioè, chiunque chiede una storia prima di entrare in un buio, qualsiasi, dell'anima o anche solo la notte, bisogna dargli la storia, è giusto. Solo che la storia è il libro, c'è lì il libro e poi la storia, storia breve, durata 30 secondi, tu la parli, bisogna saperla fare, infatti ne abbiamo scritte 100, un inizio, un sviluppo velocissimo, finalino, tac, spenta la luce. Lui rimane, non è chiaro. Sono molto carine e molto utili, secondo me. No, no, ma è da provare. Senti, non abbiamo parlato di tre volte all'alba, ma io so che tu odi parlare dei tuoi libri appena usciti, quindi penso di averti fatto un piacere. No, tanto, insomma, i tuoi fan mi hanno molto sgridato su Twitter perché io ho ammesso di averti scoperto con Emma House, che è un romanzo che io ho trovato, insomma, a me è piaciuto moltissimo. Io lì ho scoperto Baricco e mi hanno scritto, ma sei matta, mi hanno intimato di leggere Castelli di Rabia, Oceano, Mare, tutto. E da allora, infatti, ho letto Mister Guino, ho letto tutto e devo dire molto apprezzato, anche tre volte all'alba, che comunque va per conto suo, no? Quindi, in fondo, c'è una cosa che vuoi dire di tre volte all'alba? Beh, è un libro che, il nostro mestiere è anche tecnico, cioè tu costruisci degli orologi anche, dopodiché quello che fai è molto importante, alto, bello, però c'è un aspetto tecnico che è in dubbio. E tutti noi, quelli che amano veramente scrivere, amano anche questo aspetto qua, cioè la vite che nessuno ha avvitato in quel modo, hai trovato un modo per far stare in bilico due cose che nessuno prima l'ha fatto, o che non pensi che nessuno l'abbia fatto, per cui c'è sempre un aspetto tecnico. Questo libro qua è fondato su un'idea che io ho sempre amato, cioè un'idea utopistica, cioè pensare di poter conoscere le persone, ma in un modo diverso da quello che abbiamo conosciuto nella vita. Faccio un esempio, mia mamma, io l'ho conosciuta che aveva già i suoi 30 anni, così, ecco, mi sono sempre chiesto, ma se un giorno io cinquantenne l'avessi incontrata che aveva 11 anni, mia mamma, che succedeva? Che tipo era? Io cosa le dicevo? Cosa potevamo fare insieme? E questo libro è fondato sull'esercizio di questa ipotesi, diciamo così. Tecnicamente è molto strano, è fantastico, diciamo. È sempre stato uno molto modesto, questo glielo dobbiamo riconoscere. No, è veramente, ad esempio c'è una cosa che non è scritta da nessuna parte, però adesso la si può dire, che è vero che è in tre parti, però ad esempio uno può leggere quella che vuole per prima. Ma io l'avevo capito. Mi stanno mandando dei cartelli intimidatori, chiudi tassativo, no, chiudi tu, hai dieci secondi per parlare di tre volte all'alba. Che potete iniziare dove volete, cioè sono tre storie, ma uno legge prima la terza, va bene, la terza, la seconda, la prima, fa come vuole. E questa roba è che rotola così, oppure puoi anche leggere la prima, la seconda, la terza e poi di nuovo la prima, la seconda, la terza, perché più tu giri, più ne sai di questi due che continuano a incontrarsi tutte le volte. E questa è una cosa piccola tecnica. E poi quando l'avete letto scrivete a me su Twitter, perché lui non è lui ma è un fake, quello che... sai che c'è uno che scrive in spagnolo firmando... Eh lo so, non sono io, no, non sono io per spagnolo. Ma sai che scrive anche delle cose di una certa rilevanza e profondità? Infatti mi hanno detto che non scrive delle grandi... No, 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 vabbè, comunque è un falso, non sei tu. No, non so, non ho tempo. Tre volte all'alba, Alessandro Baricco, e la fondamentale collana Save the Parents, questo ci tengo personalmente. Al salvataggio dei genitori, sì. Grazie. Ciao, arrivederci. Ciao, da vi là.